Entrata fiancata, mossa valida, va in testa... Grazie per la visione! 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 è una multa combinata dalla Biccherna nell'agosto del 1239, nel periodo in cui governavano i Ghibellini. Il potestà era Pietro di Parenzo, romano, e fu riscossa dalla Biccherna. Il multato fu un tale ristoro di Bruno di Cicurta, che aveva discusato il palio ed essendo arrivato ultimo aveva rifiutato il porco, scherno stabilito per legge proprio per l'ultimo arrivato. Ristoro apparteneva senz'altro a una famiglia importante, forse i Tommasi, fra quali era consueto questo nome di Cicurta, perché la condanna gli fu mitigata per rispetto alla sua posizione sociale. L'episodio va a confermare la partecipazione a questo tipo di gara di nobili e comunque di appartenenti a famiglie importanti, in quanto erano i più degni di correre in onore della Madonna, e inoltre erano pressoché gli unici proprietari di cavalli. Tra i proprietari di cavalli anche gli ufficiali del comune, quelli forestieri e anche i senesi, come per esempio i confallonieri dei Terzi, quelli che erano a capo delle tre circostrizioni cittadine e che nel gareggiare potevano muovere il plauso di una parte della popolazione, quella da allora amministrata. E qui mostro una foto attuale dei tre gonfalonieri con i loro che portano gli standardi di ciascun terzo in cui esso divisa a Siena. Questo pali alla lunga in onore della Madonna, come quelli in onore dei santi maggiormente venerati nelle varie città, diventa quindi come un certame, cioè una gara in tempo di pace, e nel contempo anche come addestramento dei cavalieri per la guerra. Tanto che il Costituto di Siena del 1262, quindi sempre in epoca ghibellina, stabiliva che coloro che correvano sui cavalli non erano responsabili di morti e offerimenti causati durante la carriera, a meno che non li avessero commessi con malizie. Da sottolineare quindi un altro elemento costitutivo del palio, il certame nobiliare e la gara fra nobili, principalmente affini religiosi e civici. La corsa si snodava lungo le vie della città, con partenza da vari luoghi, secondo le epoche, e arrivo in piazza del Duomo. Girolamo Macchi, erudito senese della fine del 600 e inizi del 700, narra che un tempo la mossa veniva data a Fontebecci, ma che qui i fiorentini, il 15 agosto 1389, avevano rubato per Beffa i barberi, impedendo la partenza del palio. Pertanto l'anno seguente si iniziò a dare la mossa in un luogo più lontano dal confine con Firenze, cioè fuori Porta Romana, presso, scrive sempre il Macchi, l'Osteria del Pavone. Ma anche qui vi erano degli inconvenienti, i barbari derivavano verso Certosa o cozzavano nel Mura. Pertanto fu deciso di dare la mossa presso il monastero degli Angeli, detto il Santuccio, sulla via Romana. Mostro qui un'immagine dell'antico monastero. Per avere un'idea di come si svolgessero all'inizio del 400, sia questa corsa di cavalli, sia la sfilata che in genere la precedeva, devo utilizzare un'immagine che però non è senese. A riprova comunque che, pali alla lunga, connotavano le principali feste religiose in tutta Italia. In un cassone nuziale fiorentino, istoriato dal pittore Giovanni Stauscani, è raffigurato il tema, l'opera è attorno al 1425, il palio di San Giovanni, tema squisitamente fiorentino. Oggi i pannelli del cassone sono divisi tra Firenze e Cleveland. Al Museo Nazionale del Borgello, il pannello con la processione delle bandiere dei barbari in piazza San Giovanni a Firenze, figura che faccio vedere. Mentre al Museo di Cleveland, il palio dei barbari alla lunga in onore di San Giovanni. Anche questa è interessantissima. Ai grandi festeggiamenti per il patrono San Giovanni Battista, che si senevano a Firenze il 24 giugno, corrispondevano senz'altro analoghi festeggiamenti a Siena in onore dell'Assunta, il 15 agosto. A Siena poi si svolgevano anche altre carriere alla lunga. Sappiamo di quella dell'onore del beato Ambrogio Sassedoni, attestata nel 1306 e continuata, seppure in forma modesta, sino alla fine del Settecento. Ad altre carriere alla lunga, quattrocentesche, in onore di San Pietro Alessandrino e di Santa Maria Maddalena. Quest'ultima, rintrodotta nel 1489 con una particolare valenza politica riferita alla larvata signoria di Pandolfo Petrucci, che aveva nella Maddalena la sua patrona. E qui faccio vedere una bella copertina di Piccherna, probabilmente di Guidoccio Pozzarelli, dove è raffigurata Santa Maria Maddalena, proprio del periodo di questa signoria di Pandolfo Petrucci. C'era anche un palio in onore di San Giacomo, introdotto dopo la vittoria contro i Fiorentini a Portacamollia del 25 luglio 1526, ma questo terminava subito con la conquista a Medicia. Il ricordo della battaglia di Portacamollia era poco gradito ai Medici. Con il tempo la borghesia mercantile soppiantò la nobiltà al potere, ma non ne mantenne le abitudini guerresche. Si affidava per lo più a eserciti mercenari, specie a partire dal Quattrocento. Il nuovo nobile non gareggia più personalmente nei pali, ma affida il proprio prezioso barbero, il cavallo, a un ragazzo. Termine di origine araba, con il quale si indicava allora un giovanissimo stagliere fantino, che indossava la livrea del proprio padrone ed era contrassegnato da un breve, cioè un cartello, dove era scritto un motto, un soprannome, con cui veniva incitato dagli accompagnatori. Nel 1461 Giovanni di Angelo Minucci, notario della Bicchena, registrava i proprietari dei cavalli, le caratteristiche dei cavalli, e i ragazzi per la corsa del Paglia alla Lunga di metà agosto di quell'anno. Interessanti i nominativi dei proprietari, fra i più importanti signori italiani del tempo. E anche i nomi, i soprannomi dei cosiddetti ragazzi. Sicismondo d'Este aveva affidato il suo cavallo a Paganino de Paganini, Romagnolo, il conte Lorenzo Strozzi di Ferrara, a Furabosco di Piero da Cremona, Malatesta da Cesena, a Fallatutti di fatti innanzi, uno slavo. Isotta Malatesta, moglie di Sicismondo, a Tremalmondo da Ferrara. Antonio di Nanni Todeschini, nipote del Papa, regnante Pio II, a Sesa Chiappo Barilisde da Montefiascone, il cardinale Colonna a Frasco di Barile da Montefiascone. Questo è tutto l'ultimo e tutto un programma. Il Paglia alla Lunga dell'agosto 1492, detto al luogo a una controversia per l'assegnazione. Cesare Borgia, il famoso Valentino, riventicò infatti la vittoria del suo cavallo che era arrivato scosso, sostenendo che il ragazzo non si era buttato apposta per far pesare meno sul cavallo, come alcuni malevoli dicevano. Qui ho proprio l'immagine del documento della lettera che Cesare Borgia, il Valentino, scrisse ai signori di Siena. Il manchese di Mantova invece contestava la mossa e in quanto a so dire non era stata regolare. In questa circostanza, evidentemente contava di più il Valentino, ottenne che il Paglio fosse assegnato al cavallo scorso. Questo discorso del cavallo scorso, sia nelle corse alla lunga che in quelle alla tonda, è sempre stato una spina nel fianco dei regolamenti del Paglio. Una concezione questa del cavallo scorso che per affermarsi ha dovuto superare non pochi ostacoli, ma che ormai a Siena da secoli fa parte delle anomalie del Paglio rispetto alle corse regolari. Infatti a Siena allora, come oggi, si ritiene assoluto protagonista l'animale rispetto all'uomo che lo guida. Il primo, il cavallo è sempre puro, e l'altro invece è spesso corruttibile. Uno ulteriore elemento distintivo del Paglio alla Lunga, giuntosi nel tempo, è costituito dalla rappresentatività. I signori rinascimentali delegano dunque a disputare la corsa ai loro ragazzi, ma non si disinteressano della competizione, anzi si accalorano per ottenere la vittoria. Avete visto la lettera del Valentino ai signori perché reclamavano? Di conseguenza le dispute fra gli illustri proprietari dei cavalli, i quattro provveditori di Biccherna, questa magistratura già dal 200 aveva la sovrintendenza su questo tipo di gara, determinarono nel 1493 il regolamento della corsa in onore di Santa Maria Maddalena, che fu poi estesa anche al Paglio di Agosto. Volevano che la carriera fosse corretta e fosse saggiata al meglio, c'è scritto nel regolamento, la velocità e la qualità dei cavalli, nonché la preparazione, la perizia e la bravura dei fantini, in latino industiam, periziam e tartem, ragazziorum. Si stabilì infatti così che i cavalli fossero montati soltanto dai fantini e non dai proprietari, così si voleva una gara più uniforme, perché capise il giudizio che uno potesse dare quando aveva cavalieri di alto ceto, era molto inquinato. Si sottolinea dunque, ora due elementi voglio sottolineare, l'organizzazione e regolamentazione del Paglio, esercitate da una magistratura comunale, e l'arte di cavalcare dei fantini, che volevano disciplinare ma anche far sviluppare e premiare. Di nuovo nell'agosto 1507 giunse primo un cavallo scosso, tra le contestazioni del Duca di Mantua, i cui cavalli erano rimasti ostacolati. In questa circostanza la corsa fu ripetuta per contentare un personaggio tanto illustre. Contemporaneamente si impose a tutti i partecipanti e spettatori di non ostacolare la corsa e di non favorire qualche concorrente sotto una pena stabilita negli statuti del Comune di Siena. Inoltre si stabilì che in perpetuum, sentite quanto non è stato vero, non si potessero eseguire corse di barbari senza fantini e che il cavallo scosso in perpetuum, anche se vincitore, non ottenesse il palio. Tutto questo naturalmente fu poi rimangiato. Si precisarono i punti d'arrivo nel 1507. Per il palio dell'Assunta, con i fantini sul dorso, addirittura dovevano raggiungere la torre di Sant'Antonino, cioè l'attuale torre fiorentina. Per quello della Maddalena, l'ospizium di San Giorgio, così era denominato il Palazzo dei Diavoli. Buone le intenzioni, ma scarse all'applicazione, se nel luglio 1515 si sentì di nuovo la necessità di riproporre la norma sul cavallo scosso. Vedremo addirittura che dopo i pali alla lunga saranno disputati soprattutto da cavalli, questo nel 67-800, da cavalli senza fantini. I pittoreschi soprannomi dei giovani fantini appaiono mutuati dal parlare d'austeria, dall'umorismo greve, dalla scaramanzia, alla religiosità popolare. Rimandano a un mondo di plebei al servizio dei signori rinascimentali. Ne troviamo conferma nell'elenco di coloro che discusarono il palio nell'agosto 1514. Però vi voglio ridire di nuovo chi era che mandava i cavalli a Siena. Il Marchese di Mantova aveva affidato un cavallo all'Espazza Campagna e un secondo cavallo a un ragazzo che si chiamava Amadio, non può perire. Il nobile senese Annibale Petroni ha un ragazzo che aveva questo motto Se gli harà onore, harà il palio. Il capitano poco in testa, già il soprannome del capitano è un po' sui generi, se ha un tale prega il Dio e nostra donna fatti innanti che ti bisogna. Il cardinale di Mantova ha un ragazzo che aveva questo motto altri persa e te Dio dispone. Il pittore Giovanni Antonio Bazzi da Vercelli, detto il Sodoma, al ragazzo Muccia Farasco, il cardinale Petrucci Senese, al ragazzo Pestaguerra e un secondo cavallo allo Zampogna. La corsa terminò con l'assegnazione del bravium, cioè del trappellone, al Sodoma. Dopo la relazione del notaio e quella del Bargello, entrambi caricati di sorvegliare la ripolarità della mossa. E così abbiamo ulteriori stravaganti soprannomi per il palio in onore di Sant'Ambrogio del marzo 1520. La partecipazione delle contrade. Questo è un argomento interessante perché devo dire che la partecipazione delle contrade al palio alla lunga è stata, è soltanto eccezionale, è limitata al 500. Sappiamo che nel 1514 parteciparono, insieme a altri privati, Chiocciolo e Giraffa. Nel 1592 è Loca. Nel 1581 però la carriera fu organizzata dall'Aquila e vinta dall'Onda. Queste carriere svoltesi nell'anno 1581 meritano una breve digressione. Queste videro la presenza e la fattiva organizzazione delle contrade e finora rimaste abbastanza fuori dalle corse dei cavalli alla lunga. E sono, tutte queste carriere, ci vengono raccontate in un manoscritto che si deve al poeta, sarto e banditore, contradaiolo della torre, Domenico Tregiani, il cui nome accademico era desioso, insipido. Si rileva, per questo oggi interessantissimo ancora, la presenza di una donna fantina, la prima di cui si abbia notizia in assoluto. Nel corteo che precedette il palio di agosto organizzato dall'Aquila, il barbero del drago era cavalcato da una fanciulla, la pastorella Virginia Sacci. Ora qui mostro la copertina, intanto è rimasta famosa che recentemente le è stato dedicato un libro in lingua inglese e quindi vi faccio vedere la copertina di questo libro. La Virginia sfilò la testa dei figuranti del drago, giunse seconda perché la sua corsa ebbe degli impedimenti. Comunque fu assai apprezzata dal governatore di Siena, Federico dei Conti di Montauto, che così la descrisse in una sua lettera. Una villanella di anni 14 in circa, ha da far correre un barbaro e vista sopra con tanta sicurtà e leggiadria che è cosa da non credere. Il galante conte la premiò donandole un cavallo. Accanto alle corse dei barberi alla lunga si svolgevano già dal 400 le cacce al toro in piazza del campo con la presenza delle contrate, con i loro carri sotemici e con i loro cacciatori. Cacce abolite dal 1590 in ossegui ad ettami del concilio di Trento che aveva proibito gli spettacoli cruenti e sostituite da senesi con corse effettuate ora finalmente alla tonda in piazza del campo prima con le bufale poi con le bufale alternate ai cavalli e infine dai con i cavalli. Ma di tutto questo oggi ho deciso di non parlarvi. So che ne conoscete anche troppo bene. Forse ci sarà un'altra occasione per parlarveni. Preferisco continuare con ulteriori informazioni sulle corse alla lunga. Queste le corse alla tonda andavano sempre più affermandosi ma si continuava a correre a Siena come in altre città con i saliani ancora al pali alla lunga per lo più con i cavalli scossi io sto parlando del 600 chiaramente e per lo più di privati in genere di 6 o 7 ormai raramente con i fantini. Secondo il regolamento stabilito posto il 1699 il cavallo era iscritto dal proprietario che però doveva essere presentato da un gentiluomo rimane questo antico uso che il palio era in mano ai gentiluomini e un mantenimento di patrocinio aristocratico sulla carriera in onore della Madonna. Le contradi non avevano alcuna ingerenza in questo tipo di palio di cui risultava vincitore il proprietario del cavallo. Il fantino quando c'era doveva essere privo di zucchette e sproni munito solo di una frusta dalle specifiche caratteristiche. Nel corso del 600 non si registrano partecipazioni di contrade alla forza alla lunga. Infatti proprio questa forza alla lunga che era il 15 agosto andò piano piano a essere sostituita da una corsa molto partecipata dalle contrade quella del 16 agosto che si chiamava Ricorsa e che era in genere organizzata dalla vincitrice di luglio. Sempre vincitrice di luglio ricorsa alla tonda e quindi piano piano nel gusto nel piacere dei senesi andò a sostituire il palio del 15 agosto alla lunga. Comunque continuava ancora nel 700 questo lo dobbiamo dire e due stampe settecentesche finalmente riproducono due particolari relativi a questo tipo di corsa due stampe senesi di cui invece non c'è nota l'iconografia senese per l'epoca precedente e ho dovuto ricorrere al palio di San Giovanni di Firenze. Nella prima incisione che si deve a Ciro Santi del 1774 è rappresentato il momento in cui il drappellone del palio alla lunga viene sceso dal carroccio e sta per essere sistemato nella colonna posta sul sagrato del duomo. Nella seconda incisione realizzata su disegno di Massimiliano De Vegni e incisioni dei fratelli Rust nel 1775 e poi stampata da Pazzini Carlin nel 1784 i barberi scossi sono i protagonisti assoluti della corsa alla lunga ripresi nell'incisione nella stampa in una fase dinamica cioè in movimento mentre passano davanti al palazzo Piccolomini a quel tempo sede del prestigioso collegio Solomei e qui faccio vedere l'immagine. Da notare alcuni particolari l'itinerario era delimitato da steccati ma soprattutto dalla polla stessa che a suo rischio si assefava lungo i lati della strada. Dalle finestre dell'elegante palazzo Piccolomini sede del collegio sono affacciati alcuni nobili convittori così come altri spettatori osservano una corsa dalle finestre arrazzate di palazzo Chicitonda Dari. Vittorio Alfieri che fu un grande frequentatore di Siena in questi stessi anni fine Settecento dedicava Onode proprio a questo tipo di corsa da lui vista e apprezzata a Siena. Comunque l'interesse per il palio alla lunga che a Siena continuava a svolgersi il 15 agosto andava sempre più scemando tanto che cadde in disuso comunque l'ultima corsa è alla lunga del 1871 e fu ormai completamente soppiantato dal palio alla sonda. Vi ringrazio. Grazie a tutti. Trata piancata mossa valida va in testa e Grazie per la visione! Grazie per la visione!